...dell'efficace azione di contrasto... Grande attenzione ai flussi di denaro e alle mafie, con la consapevolezza che l'Università ha un ruolo fondamentale nel trasmettere i principi di legalità ai giovani. Questa mattina, in prefettura, il prefetto Vittorio Lapolla e il rettore dell'Università di Urbino, Vilberto Stocchi, alla presenza dei vertici provinciali delle forze di polizia e della Guardia di Finanza, hanno illustrato i contenuti del protocollo intesa per la legalità, già sottoscritto il 16 ottobre scorso ad Urbino alla presenza del ministro dell'Interno Luciana Lamorgese. Un documento strategico con cui entrambe le parti si impegnano a tutelare gli appalti della stessa Università da possibili infiltrazioni criminali. Non abbiamo al momento informazioni o evidenze che ci siano infiltrazioni strutturate nella nostra provincia, però questo ovviamente non ci deve far abbastare la guardia, anzi ci deve spingere a rafforzare questi strumenti di prevenzione che abbiamo. Il mio intento è quello di estendere il protocollo anche ad altre stazioni appaltanti perché è un protocollo innovativo, un protocollo all'avanguardia, avanzato, per cui la possibilità o la possibile estensione di questo protocollo anche ad altri settori potrebbe favorire questa azione di prevenzione, di contrasto a eventuali fenomeni di infiltrazione criminale. Oltretutto, d'accordo anche col ministro e col magnifico lettore, non escludiamo che questo protocollo, proprio per la sua portata innovativa, possa eventualmente essere steso anche ad altre università italiane. Un protocollo che diventa strategico anche in vista degli investimenti che l'Università degli Studi di Urbino ha messo in campo. È stato possibile in questi anni elaborare un importante piano di sviluppo, la realizzazione del polo scientifico tecnologico Enrico Mattei che vedrà 5.000 metri quadri di laboratori scientifici, poi la nuova sede della Facoltà di Scienze Motorie, altri 16.500.000 euro, poi ci sono altri interventi che riguardano Palazzo Buonaventura, San Girolamo, la prossima settimana l'inaugurazione del rettorato con una sala dedicata al Senato Accademico e al Consiglio di Amministrazione e l'Aula Magna e le segreterie. Poi abbiamo fatto interventi che riguardano anche Palazzo Battiferri, quindi complessivamente tutti questi interventi che hanno una copertura per intorno a 45 milioni di euro.